Gentili telespettatori, buona giornata. Amadeus, Amadeus, Amadeus era una canzone degli anni 80 o 90, quella che diceva Amadeus, Amadeus. Amadeus, che è un nome d'arte, realmente Amadeus si chiamerà in un altro modo, vediamo se lo trovo. Amadeus sarebbe Amedeo Umberto Sebastiani, nato a Ravenna nel 1962. Quindi Amadeo, Amadeo, Amadeus, Amadeo Umberto Sebastiani è, se voi vedete, Amad E-U-S. Cioè togliete la O finale, ci mettete la prima sigla di U, cioè la prima lettera di U e la prima lettera di S viene fuori Amadeus. Vabbè, forse è questa la spiegazione. Comunque è un nome d'arte, come tanti artisti ce l'hanno. Niente, era solo una divagazione, anch'io ero curioso di sapere, visto che non mi ricordavo, qual era il vero nome di Amadeus. Amadeus, Amadeus, se la prende con Salvini perché Salvini se la prende col festival. Quindi Amadeus non è che attacca Salvini, ma è Salvini che attacca il festival. Amadeus dice, sono quattro anni che ce l'ha con il festival. Perché ce l'avrebbe con il festival il buon caro Salvinius, the Capitan, perché ce l'ha con il festival? Salvini critica Roberto Benigni. Critica Benigni perché Benigni parla della Costituzione. Allora, Benigni parla della Costituzione, prima di tutto, intanto sono 75 anni, credo che questo sia il 75esimo anniversario della Costituzione. Vabbè, tra parentesi, Benigni viene chiamato, gli si paga, come si dice, un cachet, fa un contratto con la RAI per una prestazione di quanto? 10 minuti? Hanno pattuito una cifra, non credo che sia inferiore ai 300.000 euro, perché nel 2020 prese 300.000 euro. Quindi oggi avrà preso altri 300.000 euro. Almeno, se non di più, c'è anche l'inflazione. Ecco, nel contratto con la RAI, Benigni non ha detto, andrò a parlare dal minuto 1 al minuto 3 di Berlusconi, dal minuto 3 al minuto 4 di Salvini, poi della Costituzione. No. Ha licenza, chiamiamola licenza poetica. La RAI ha detto, 10 minuti per te, di quel cavolo che vuoi. Alla fine, la RAI dà piena fiducia a Benigni, sapendo che non andrà a dire blasfemia o cose del genere. Ecco, piena fiducia all'attore, uno dei più grandi attori italiani. Può piacere o non piacere, ma uno dei più grandi attori italiani, dopo Sordi, Verdone, Benigni, sono i più grandi attori che abbiamo, e che abbiamo avuto, per non dimenticare il leggendario Paolo Villaggio. Poi gli altri, insomma, gli altri attori che ci sono oggi, non me li fare neanche nominare, perché chiamarli attori e attrici è un'offesa da Alberto Sordi a Villaggio e a tutti quelli che non ci sono più. Pertanto, Salvini critica Benigni, diceva, di Costituzione non bisogna andare al festival a parlare di Costituzione. Ma Benigni poteva parlare di Costituzione, poteva parlare della crisi internazionale, poteva parlare di quello che voleva. Quindi, criticare un attore chiamato per fare un monologo a suo piacimento, sembra anche un po' così, insomma. Diciamo che Salvini fa il Salvini. Attenzione che oggi Salvini è vicepresidente del Consiglio. Vicepresidente del Consiglio. Non è il parlamentare semplice, è vicepresidente del Consiglio. C'è il vice di Meloni. Lascia perdere ad andare a criticare Benigni, va a parlare della Costituzione. Ma lascialo parlare della Costituzione. Eh, ma la Costituzione la puoi comprare anche in libreria e te la leggi da solo. Vabbè, se avevo le ruote ero un tram, ma cosa cavolo vuol dire? A me possono chiamare al festival di Sanremo per parlare dieci minuti e mi metto a parlare di Enrico Letta. Diceva, io ti pago 300.000 euro per parlare di Enrico Letta. Sì, se tu mi dai la fiducia e mi dici io ti do dei soldi, hai in nostra piena fiducia, parla per dieci minuti, vuol dire che Benigni non aveva nessun vincolo su quello che doveva dire. Quindi la critica di Salvini è un po', diciamo, che Salvini fa il Salvini. Con questo abbiamo già detto tutto, no? Amadeus dice, sono quattro anni che il leader della Lega attacca il festival, ma basta non guardarlo. Come dire, ma non guardarlo il festival, guardati in altro programma. Ho sentito che ha detto che guarderà un film, quindi è tutto ok. Allora, voi siete liberi di guardare il festival o di non guardarlo, di guardarvi un film assieme a Salvini, vi portate i popcorn e vi guardate assieme un film a Salvini. Magari vengo anch'io, no tu no, vengo anch'io, no tu no, magari vengo anch'io, invitatemi, io porto magari le patatine così con Salvini ci guardiamo un altro film o giochiamo con i videogiochi. Io non gioco con i videogiochi, però possiamo giocare con i videogiochi, magari al calcio, no? Ecco, invitatemi che anch'io non guardo il festival, preferisco guardare un film o guardare qualcos'altro, però, insomma, basta non guardarlo, naturalmente se io non lo guardo non gliene frega niente a nessuno, o quasi. Se lo fa il capo della Lega, che è molto famoso, allora diventa una questione di interesse pubblico, se Salvini guarda o non guarda il festival. A parte che poi anche una giornalista gli è analita di tutti i colori a Salvini, quindi credo che Salvini non l'ha guardato perché sapeva che sarebbe arrivato qualche criticone. Poi, ecco, interviene anche Gianni Morandi, che dice, ce l'ha ricordato bene ieri sera Roberto Benigni, parlando dell'articolo 21 della Costituzione, della libertà d'espressione, che evidentemente non vale per i politici. Quindi anche Morandi praticamente sta dicendo a Salvini, guarda che c'è libertà di espressione, Benigni può venire qui a parlare di quello che vuole, basta che non insulti o non dica delle cose oscene. C'è libertà di espressione nei limiti, lo dice la Costituzione, è proprio citata da Benigni e tu vieni a criticare Benigni che parla della Costituzione. Quindi da Amadeus, da degli artisti, anche questa volta Salvini viene, come si può dire, viene fermato anche dagli artisti. Forse Salvini è meglio a volte non dire nulla, lascia perdere, non è necessario commentare tutto quello che succede ogni giorno, tanto lei è già famoso Salvini, non ha bisogno di ulteriore notorietà, perché quello che dice viene usato contro di lei. Non l'ha ancora capito? In molti le hanno consigliato, meglio non dire niente, guadagni più voti se non dici niente che se parli. Quanta verità in queste parole. Grazie a tutti e arrivederci a presto.